Il comune di Vallo della Lucania ha giudicato l'appalto per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza composto da 43 telecamere disposte su tutto il territorio vallese. Tre telecamere saranno installate a Pattano, tre in via Bonifacio Ricchio, quattro in via Ottavio De Marsilio, tre telecamere in via Badolato, Altezza Parco della Musica, tre nell'autostazione Calcinai, due in via Enrico Passaro, due in via Silvio Nicolanti, Altezza Asilo, quattro a Massa verso Sant'Antuono, una telecamera sarà montata al cimitero, tre ad Angellara, tre a Pattano verso Salicuneta, tre telecamere in via Valiante, due sul viadotto Contrada Curci, tre saranno collocate sulla rotonda portale. Presso il comando della Polizia Municipale sarà ubicata la sala operativa per il controllo generale di video sorveglianza. Il comune sosterrà i costi per la gestione e la manutenzione del sistema a giudicataria dell'appalto e la ditta FGSSRL di Azzano San Paolo per il prezzo complessivo pari a 133.754 euro. Vivere in sicurezza è una necessità sempre più avvertita dalla popolazione, ha commentato il consigliere comunale Celestino Sansone.